Il numero 1 è Gianluigi, il numero 3 è Giorgio, il numero 6 è Paul Rapini, il numero 10 è Carlo, il numero 13 è Federico, il numero 14 è Bernardo, il numero 15 è Andrea, il numero 19 è Leonardo, il numero 22 è Carlo, il numero 23 è Antonio, il numero 33 è Maurizio, a disposizione il numero 13 è Storari, il 34 è Rubino, con il 4 è Caceres, 5 è Hoppott, 11 è Leceglie, 12 è Giunico, con il 16 è Ponta, 20 è Paduin, 26 è Nick Skyler, con il 27 è Quagliarella, Bianconeri, sullo bandiere, fuori voce e fino alla fine, forza di Lulee! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.